La bella Mary Elizabeth Winstead Lei invece. Meno 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 meno. Dagon Eves, Smack. Il suon pizzica e Van McGregor, 46, che sbacciucca la sua collega di Fargo, la bella Mary Elizabeth Winstead, 32. . Tutto molto romantico, se non fosse che l'attore di Trainspotting e Star Wars è sposato da 22 anni con Eve Mavrakis, 51, dalla quale ha avuto quattro figli, che hanno dai 6 ai 21 anni. . La sua collega invece ha annunciato lo scorso maggio, proprio mentre andavano in onda gli episodi della serie creata dai fratelli Cohen, di essersi lasciata con il marito, con cui stava dai tempi del liceo, Relay Stearns, 31. I due attori sono stati fotografati in un pub affollato, incuranti della presenza di decini di persone. Dopo aver parlato fitto per un'ora, si sono scambiati diversi baci e sono andati via a bordo della sua moto. .